Ciao bambini, sono la maestra Michela della sezione viola e oggi vi leggerò un libretto che tratta delle scoperte di Bebo e Bicce, la catapulta! Chissà cos'è! Bebo! Guarda Bicce, siamo arrivati allo stagno! Lo stagno di Amedeo! Finalmente! Non vedo l'ora di giocare ai pirati con lui! Wow, che bello stagnetto! Ma che c'è nello stagno? Ehi Amedeo, ma dove sei? Oh, eccolo lassù! Dai dormiglione, sveglia! Scendi che giochiamo ai pirati! Amedeo, no, sonno! Lasciatemi dormire! Ma cos'è? Un ragno! Oh, quante foglie! Guarda, questa sembra una barca! E Bicce dice, è bellissima! Sarà il mio galeone! E Amedeo chiama E dice Io sono il pirata dei sette mari E Bebo dice Io sono il terribile pirata rosa! E certo, sono tutto rosa! E Amedeo sempre che dorme Ciao pirata dei sette mari Attenta, si sta alzando il vento! Non preoccuparti, pirata rosa Donnerò presto con tanti tesori Oh, nuota, nuota, nuota e va All'improvviso il vento E Amedeo grida Aiuto! Il vento mi porta via! Attento Amedeo! Ritorna sul ramo e tieniti stretto C'è molto vento! Anche l'acqua si sta alzando E Bicce Oh no! Ho perso il mio remo! Bicce nei guai! Dobbiamo fare qualcosa! Lanciamoli un nuovo remo! Così potrà tornare a riva! Bebo! Lanciamo il bastone Con tutta la nostra forza! Ok! Uno, due, tre! E Bicce Oh no! È caduto in acqua! Amedeo! Prova a lanciarmene uno dall'albero! Aiuto! Aiuto! E Amedeo si dondola con la ragnatela e va Uno, due, e tre! Ta-da! Uffa! Il lancio è ancora troppo corto! Non riescono a tirargli il bastone! Amedeo! Ah! Cadu! E Bebo! Volo! Attenzione! È caduto sul ramo E Bebo! E Bebo vola! Amedeo! Dice Che volo Bebo! Quasi quasi! Arrivavi da Bicce! Giusto! Ecco cosa ti vuole per lanciarmi un remo! Una catapulta! Provate a costruirla! Ah! Sì! Proviamo! Oh! Che male! Facciamo un esperimento E prova anche tu! Ci servono Gomma da cancellare Eccola! Foglio di carta Mestolo di legno Attenzione ora! Appoggiamo il manico del mestolo Sopra la gomma da cancellare E la paletta sul tavolo Strappiamo un pezzo di carta dal foglio E facciamo una pallina Mettiamo la pallina nella paletta del mestolo Attenzione! Spingiamo verso il basso il manico del mestolo Con il ditino così E schiacciamo! Spostiamo il mescolo più avanti e più indietro sulla gomma E spingiamo di nuovo E vediamo che Ta-da! La pallina partirà! Si può fare anche pallina ma si può fare anche oggettini L'importante è che i bambini siano oggettini piccoli Che non vadano in faccia Wow! Abbiamo preparato una catapulta! Eccola! Funzionerà! Amedeo! Proviamo! Mi butto! Aiuto! Ta-da! Eccoli che saltano sulla leva Anzi il bastone però Wow! Il bastone viene lanciato E' preso! Sì! La catapulta ha funzionato bambini! Grazie amici! Mi avete salvata! Ah ah! Siamo i pirati della catapulta! Pronti per nuove avventure! Ta-da! E' fina! Ta-da!